sentire il solito suono all'arrivo di una mail o di un tweet potremmo avere un apparecchio da collegare al proprio pc che associa ad ogni notifica ricevuta un profumo immaginate che bello sentire la fragranza di fragola quando ci arriva un nuovo tweet o di rosa quando un vostro amico vi invia una mail sembrerebbe strano ma tutto questo oggi è possibile grazie a degli esperti di tecnologia che hanno inventato holly holly è un piccolo contenitore da riempire con l'essenza desiderata e collegabile direttamente al proprio computer tramite porta usb questa è una delle tante novità che potete trovare all'idl home shop di londra l'evento per eccellenza dedicato alla radio panda 96.3 sono le 15 12 minuti nelle prossime tre ore nelle prossime tre ore sarete in compagnia degli allievi del corso di conduzione giornalismo radiofonico organizzato da radiospeaker.it che si è svolto nelle ultime cinque settimane a milano chi vi parla è uno di questi diciamo scolaretti giuliano e in studio con me ci sono anche simone stefania bernarda sonia e samanta di cui ascolterete le voci e gli interventi a rotazione durante questa diretta o meglio lezione in diretta prima di cominciare volevo ricordarvi i contatti per mettervi in collegamento con il radio panda numero di telefono che lo 0 2 9 9 5 9 8 8 8 8 e poi c'è anche il contatto e mail per interagire durante la diretta dj chiocciola radiopanda punto it fra non molto torniamo in diretta parleremo di correttore automatico dell'iPhone musica ora con viaggio antonaci ti dedico a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.